L'auditor Jesus Christus, carissimi amici di Radio Domina, siamo giunti alla metà del nostro percorso quaresimale, oggi è il ventesimo giorno e quindi ci troviamo perfettamente alla metà dei 40 giorni e quindi ripartiamo con più slancio verso la meta che è la Pasqua del Signore, il Trido Pasquale, dove celebriamo la morte e la risurrezione di nostro Signore e quindi questo è un punto di svolta, possiamo dire, un giro di boa nel cammino quaresimale, ci avviciniamo verso la Pasqua e la quaresima già ci fa pregustare, già nella domenica, nella quarta domenica, già ci fa intravedere quella gioia, la gioia della risurrezione, ma il cammino è ancora lungo e ancora abbiamo questo tempo a disposizione per lavorare innanzitutto sulla nostra conversione, per convertirci al Signore con tutto il cuore e per questo sperimentare la gioia della conversione, la gioia dell'incontro con il Signore che rinnova la nostra vita e oggi abbiamo sentito la parola che ci propone il Vangelo innanzitutto, che ci propone ecco la liturgia, innanzitutto la prima lettura tratta dal profeta Geremia, il Signore si rivolge al profeta dicendo fermati alla porta della casa del Signore e proclama questa parola, ascoltate la parola del Signore voi tutti di Giuda che entrate per queste porte per adorare il Signore, così parla il Signore degli eserciti e mendate le vostre vie, le vostre opere, io vi farò abitare in questo luogo, non mettete la vostra fiducia in parole menzoniere dicendo questo è il Tempio del Signore, questo è il Tempio del Signore, ecco il Signore dice a Geremia fermati all'ingresso del Tempio e non entrare ma ammonisci quelli che stanno per entrare con l'intento di adorare il Signore dicendo state attenti, state attenti a non vantarvi del Tempio del Signore, state attenti a non vantarvi della presenza del Signore perché per gli ebrei l'unico luogo dove risiedeva la presenza reale del Signore era il Tempio di Gerusalemme e quindi il profeta dice state attenti a non vantarvi e poi ecco a percorrere altre strade e quindi dice il profeta emendate le vostre vie e non cadete nelle parole menzoniere, state attenti alle parole menzoniere di quelli che si vantano del Tempio ma che poi ecco non seguono i comandamenti di Dio e anzi dice successivamente introducono anche gli idoli nel Tempio e anche adorano insieme al Dio vero, adorano anche gli idoli, gli idoli quindi delle altre popolazioni ma l'idolatria riguarda anche tutto ciò che si mette al primo posto, quindi può essere anche il denaro, può essere anche la carriera, può essere anche la famiglia, può diventare un idolo se si mette al posto di Dio e soprattutto i vizi, ecco i vizi capitali che prendono il posto del Signore e allora sembra che anche oggi il profeta Geremia sia mandato proprio a noi, il profeta Geremia che non entrò nel Tempio ma si fermò alle soglie della porta del Tempio, sembra che anche oggi il Signore mandi il profeta Geremia a dire state attenti voi che entrate in quelle chiese, voi che entrate in quelle sinagoge, voi che vi associate alla menzogna, voi che avete introdotto gli idoli nelle chiese, state attenti voi che dovrete fare la consacrazione domani, ecco state attenti a non vantarvi e a non confidare in parole menzogniere e questa parola sembra rivolta proprio a noi oggigiorno, ecco il Signore ci dice state attenti perché se voi emenderete la vostra vita, se voi ritornerete a me, certamente otterrete misericordia ma se non farete questo state attenti perché il Tempio crollerà, il Tempio del Signore crollerà, quindi non riponete la fiducia nelle parole menzogniere e nelle vostre opere, nella struttura del Tempio possiamo dire tutto quello che è ornamento ma che non è l'essenza, l'essenza del culto gradito a Dio e allora dicevo il Signore ci mette in guardia anche a noi, stiamo attenti a non confidare nelle parole menzogniere, ecco Bergoglio farà domani la pseudo consacrazione alla Vergine Maria, consacrando la Russia e l'Ucraina, questa finta consacrazione perché non è il Papa innanzitutto e quindi non ha validità, ecco questo atto e anche non può essere gradito al Signore perché la Madonna chiedeva che questo atto fosse fatto dal Papa, quindi dal Papa legittimo, dal Papa vero, ma anche che fosse fatto nella forma da lei indicata e quindi il Papa in unione con tutti i vescovi della Chiesa Cattolica in forma solenne, la Madonna chiedeva la consacrazione della Russia, punto e stop, quindi il motivo divino lo sa il Signore, ecco il Signore ci chiede la fiducia, ma ecco noi non ci siamo fidati, i Papi sono stati impediti a fare questo atto solenne nel modo indicato dalla Madonna e quindi questo atto effettivamente non è stato ancora fatto così come il Signore lo chiedeva e allora dicevo ho letto anche quella preghiera che è stata diffusa che è più una messa in scena che una preghiera che serve a edulcorare il messaggio vero di Fatima, a metterlo nel dimenticatoio e a porre nella speranza, non nella rivelazione del Signore, non in quello che chiede il Signore, ma a porre la speranza nelle forze umane possiamo dire, e dicevo in questo atto, ecco leggiamo che dice Bergoglio che la Madonna porta a Gesù che è il Principe della pace, ma poi ecco non si capisce di quale pace si parla, di quale pace si parla, ma ecco per quale motivo bisogna ricorrere alla Madonna in questo momento estremo, in questo momento di pericolo, innanzitutto bisognerebbe chiedere perdono dei peccati, è di quei peccati che hanno offeso la Vergine Maria in questi anni e quindi pensiamo all'idolatria, ecco di pace a mamma, pensiamo alla canonizzazione di Martir Lutero in Vaticano, pensiamo al minimalismo mariano che è stato diffuso, è stato banalizzato, è stato ridicolizzato, la devozione mariana in tutti i modi, pensiamo alle espressioni anche della predicazione della falsa chiesa verso la Vergine Maria, ma quindi dovremmo chiedere perdono di questo al Signore innanzitutto per ottenere misericordia, ma poi anche dei peccati, è quelli che trafiggono il cuore di Gesù, il cuore di Maria e quindi peccati contro i dieci comandamenti, pensiamo solamente al peccato di aborto, degli aborti è una piaga che devasta l'umanità, ma che trafigge il cuore di nostro Signore, Madre Teresa diceva che finché ci saranno gli aborti sulla faccia della terra, il mondo non potrà trovare la pace, non potrà essere riconciliato con Dio, finché viene disprezzata la vita e pensiamo quanti milioni, se non miliardi di aborti vengono praticati nel mondo, ecco di questo dovremmo chiedere perdono al Signore del peccato di bestemmia, del peccato di disacrazione, pensiamo alle chiese dissacrate, abbiamo visto anche di recente in una chiesa di Palermo si va dal tango, ma ormai queste scene sono talmente abituali che non provocano neanche più lo sdegno da parte dell'opinione pubblica, da parte di coloro che si definiscono cristiani, cattolici e praticanti, ormai tutto è stato normalizzato, quindi nelle chiese avviene di tutto e di più, viene dissacrata anche l'eucaristia con le pratiche sanitarie e queste robe qua che abbiamo visto in questi due anni e quindi di questo bisognerebbe chiedere perdono al Signore per ottenere misericordia, che viene dissacrato il luogo santo, viene dissacrata la domenica, le bestemmie che trafiggono il cuore di Dio, i peccati di impurità che appunto non sono i peccati meno gravi, come dice Bergoglio, il peccato di impurità è il peccato meno grave, contro il Sesto Comandamento, ma non è così, ma questa chiesa di Bergoglio non chiede perdono, pensa di ottenere misericordia con questo atto di pseudo consacrazione, pensa di ottenere misericordia dal Signore, dalla Vergine Maria a parole, ma senza pentirsi dei peccati che offendono Dio e quindi si dice in questa preghiera abbiamo disatteso le speranze della comunione dei popoli, delle comunità internazionali, robe di questo tipo, abbiamo deviato dalla via della fraternità, allora capiamo che la pace che persegue questa chiesa non è la pace di cui ci parla il Vangelo, la pace che viene solo da Cristo, che viene solo dalla riconciliazione con Dio, cioè emendandosi dai peccati, ma è la pace che persegue la massoneria, è la pace che persegue appunto il nuovo ordine mondiale, una pace fatta dalle mani dell'uomo, una pace che non è dono dall'alto, ma è una pace che ha degli obiettivi, quindi quelli di portare la fratellanza universale, quelli di costruire la società umanitaria, una società dove però non c'è la legge di Dio al centro, ma c'è l'umanità, c'è l'uomo e allora ecco come mai la Madonna chiedeva la consacrazione della Russia? Tra l'altro ci sono anche teologi che dicono che non bisogna neanche parlare di consacrazione, ma bisogna parlare di affidamento, ecco no? La Madonna ha chiesto la consacrazione della Russia e quindi consacrare significa riservare a sé, quindi Dio voleva la consacrazione della Russia per riservarla per sé, per i suoi piani misteriosi, i suoi piani di salvezza che sono imperscrutabili, ma ecco oggi giorno abbiamo capito che la Russia si sta opponendo all'avanzata del nuovo ordine mondiale massonico di cui Bergoglio è la guida spirituale e quindi la Russia si sta opponendo a questo pensiero unico, a questo sistema unico, a questa unità massonica delle nazioni e quindi per questo motivo fa paura a coloro che hanno costruito quella società anticristica, quella società senza Dio, quella società che non ha più il timore di Dio ma che ha messo le leggi umanitarie al posto della legge di Dio e allora leggiamo in questa preghiera che l'errore, il peccato dell'umanità è quello di non aver costruito la fraternità, ma Gesù ecco non è venuto a parlarci di fratellanza universale, Gesù è venuto a salvarci, è venuto a salvarci dal peccato e finché non combatteremo la radice di ogni male che è il peccato e quindi tutto ciò che si oppone ai dieci comandamenti santi di Dio non ci potrà essere la pace, finché l'umanità non accoglierà il Signore come salvatore, non riconoscerà in Gesù Cristo il principe della pace, sì, ma l'unico salvatore, colui che porta la redenzione dal peccato e non viene a costruire fratellanze universali, a salvare la casa comune, Gesù viene a salvarci dal peccato che è la radice di ogni male finché non accetteremo questo, non ci potrà essere pace sulla terra e questo non lo dice Don Enrico ma lo dice chiaro la parola di Dio e Bergoglio ecco dice così la chiesa è una famiglia di fratelli, questo non è nella preghiera, è un altro pensiero, dice la chiesa è una famiglia di fratelli e sorelle con lo stesso padre il quale ci ha dato Gesù come fratello perché comprendiamo quanto lui ami la fraternità e desidera che l'umanità intera diventi una famiglia universale, ecco questo è il pensiero di Gesù secondo Bergoglio, secondo il Vangelo di Bergoglio e della falsa chiesa Gesù vuole che l'umanità intera diventi una famiglia universale nella fraternità, ma di quale fraternità si parla se non in quella nello Spirito Santo, ecco Gesù è venuto a donarci lo Spirito Santo e vuole che gli uomini conoscano il vero Dio, ecco vuole che tutti possano arrivare alla verità piena, possano tutti essere uniti nella famiglia ma tramite il legame dello Spirito Santo che ci rende appunto fratelli di Cristo, figli nel figlio e figli del padre, capiamo allora che questi ideali non sono gli ideali del Vangelo ma sono gli ideali della massoneria e quindi questo per noi è sempre più chiaro ogni giorno che passa e quindi capiamo bene che l'inganno è grande e dobbiamo stare attenti, è stare attenti a non cadere in questi inganni, a prendere le distanze e a dire apertamente l'inganno, l'errore, ma la consacrazione vera alla Vergine Maria è la consacrazione che ci porta sempre a Cristo, che ci porta sempre a riconoscere Cristo come unico Dio, come unico Salvatore, cosa che la falsa Chiesa non fa e non dice e non può neanche predicare perché se non riduce Gesù Cristo non può raggiungere quegli obiettivi di ecumenismo, di fratellanza universale massonica che persegue e la parola del Vangelo che abbiamo ascoltato ci parla di Gesù, ecco che si manifesta essere Dio, figlio di Dio, proprio con la sua forza, con la sua potenza, intimando alla febbre della suocera di Pietro e quindi dominando le potenze del male, quindi Gesù è Dio, Gesù ha il potere di guarire, ha il potere di vincere le forze del male a cui sono legate le malattie nella mentalità ebraica e Gesù si manifesta essere Dio nel suo ministero e nel suo operato, tanto è vero che anche i demoni, ecco anche i demoni riconoscono che lui è il figlio di Dio e Gesù impedisce loro di parlare, impedisce loro di dare questa testimonianza e di rivelare la sua divinità, anche i demoni, anche i demoni sono costretti davanti alla potenza di Cristo a riconoscere la sua onnipotenza, la sua forza e che sono vinti e allora questo anche per noi è importante, ecco riflettere sempre sul fatto che Gesù è più forte, che Gesù può vincere ogni potenza di male, quindi il male fisico, il male morale e il male che si abbatte sull'umanità, Gesù con una sola parola può ordinare ai demoni di stare fermi, può ordinare ai demoni di andare via, può ordinare a Satana di essere incatenato e quindi ecco per noi, ecco questo anche è un messaggio importante, ecco capire che Gesù è più forte e può vincere da un momento all'altro, può vincere qualsiasi male che si abbatte sull'umanità, anche i mali da cui siamo minacciati oggi, ma il Signore ecco non fa tutto da solo, ecco ha bisogno di un piccolo resto, ha bisogno di persone che si sacrifichino, che implorino, persone che appunto diventano strumento della vittoria di Cristo e allora chiediamo al Signore ecco che possa abbreviare i tempi di questa prova che ci attende, questa prova che si sta abbattendo sull'umanità, questa prova che è causata dal male del mondo, dal peccato, ma soprattutto da una Chiesa apostata, da una Chiesa che ha introdotto gli idoli, abbiamo visto appunto dopo i fatti di Pasciamama, come appunto è avanzato il male del mondo, come è avanzata questa pandemia, come è cambiata la società in così poco tempo, come hanno preso il potere i nemici di Cristo sempre di più e tanto da negare anche le libertà fondamentali delle nazioni, garantite anche dalle Costituzioni e allora capiamo bene che il mistero di iniquità avanza sempre più, ma Gesù è più forte, Gesù è il vincitore e allora se siamo uniti a Lui anche noi saremo vincitori insieme a Lui, anche noi parteciperemo della sua vittoria e quindi dobbiamo sempre avere questo sguardo di fede sugli avvenimenti, sugli avvenimenti che si svolgono sotto i nostri occhi, mai cadere nella trappola, nello scoraggiamento, mai cadere nella tentazione di pensare che il male è più forte, ecco Gesù è il Signore, Gesù è il Re, Gesù deve regnare sulla terra, in cielo e deve regnare nei nostri cuori e ripeto finché l'umanità non accoglierà il Signore come Re della pace, finché Cristo non regnerà nei cuori degli uomini, finché Cristo non sarà conosciuto e accettato e adorato da tutti i popoli non potremo mai avere la pace. Allora ripetiamo quelle parole del profeta, state attenti, ecco non andate dietro alle false parole, state attenti quando diranno pace, sicurezza, fratellanza, state attenti quando vi prometteranno una pace a basso costo, ecco la pace può venire solo da Gesù Cristo e dai comandamenti di Dio, finché l'umanità non accoglierà questo non ci potrà essere la pace e allora quelle parole dette dal Signore al profeta vengono ripetute anche a noi, state attenti voi che dite Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore, state attenti a voi che entrate nel Tempio del Signore pensando di rendere ancora un culto gradito a Dio in mezzo alla confusione, in mezzo all'apostasia, state attenti a voi che riponete la fiducia in questa preghiera di consacrazione che è una farsa e non può essere gradito a Dio perché nella menzogna, nell'apostasia e soprattutto non seguendo quello che Dio chiede, gli appelli del Cielo non ci può essere un frutto di grazia, non ci possono essere frutti di pace, ecco stiamo attenti se ci sarà un momento di pace ma sarà una pace apparente, sarà una pace che non durerà a lungo, sarà appunto quella parola del Signore che dice state attenti quando tutti diranno pace e sicurezza allora ecco arriverà, arriverà la rovina, ecco arriverà il castigo, arriverà la voce di Dio dal cielo e allora più che mai apriamo gli occhi della fede, più che mai siamo aggrappati alla corona del rosario, la Madonna ha detto anche che non c'è problema, situazione familiare, sociale, internazionale, qualsiasi situazione che non si possa affrontare con la corona del rosario in mano e allora per noi la corona del rosario, la croce di Cristo sono tutto e anche noi siamo chiamati ad essere quegli apostoli degli ultimi tempi di cui parlava il monforte, quegli apostoli con il rosario in una mano, il crocifisso nell'altra mano, quegli apostoli che dicono la verità ad alta voce, quegli apostoli che non guardano in faccia a nessuno ma che hanno messo al primo posto il Signore, quegli apostoli che hanno parola di fuoco, quegli apostoli che anticiperanno il ritorno di Cristo e la vittoria del cuore immacolato di Maria. Laudetur Jesu Christus. Sempre laudetur.